Benissimo, le manovre sono filate tutte lisce e quando le manovre vanno bene la nostra velocità specialmente alle andature portanti è a livello diciamo internazionale per cui non abbiamo avuto problemi. Al mondiale a Torquei eravamo tra i più veloci della flotta alle andature portanti e qui abbiamo avuto la conferma. No, 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 non siamo l'equipaggio da battere però diciamo che siamo a livello top della flotta italiana. Guarda, al mondiale ho avuto la soddisfazione che un equipaggio inglese che io conoscevo uno che ha fatto le Olimpiadi, in ultimo maniera ha fatto le Olimpiadi col Soling, uno molto bravo e quando mi ha chiesto come siamo arrivati, io ho detto siamo intorno al 16, allora siete dei top sailor quindi quando sei nei primi 20 sei un top sailor e mi ha fatto molto piacere. Il mio equipaggio, Giovanni Meloni e Sandro Piredda sono sempre del nostro gruppo dell'evento Sail Team di cui è team manager Zucconi, Camillo Zucconi è lui che gestisce praticamente tutti gli equipaggi, fa gli innesti, prepara e alla fine devo dire con ottimi risultati.